Dylan Dog 439 L'invasione silenziosa di Barbara Baraldi e Davide Furno Devo dire che avevo molto hype, avevo molto timore per questo fumetto, per questo numero ma mi ha davvero galvanizzato, sono stato molto felice mi ha portato in un viaggio inaspettato che non mi ha deluso neanche un po' anche se, ovviamente, se no non sarei qui a parlarne ho comunque qualche appuntino da fare ma, tendenzialmente, sono molto entusiasta di quello che ho appena letto e voglio condividere con voi tutte le sensazioni che mi ha portato Sigla Dylan Dog 439, l'invasione silenziosa è il secondo numero dopo il ritorno al classico dopo il ritorno all'entropia che cos'è successo nel caso Viviate Fuori Londra è che dopo il 401 che aveva ridato delle nuove origini a Dylan Dog con un soft reboot che ormai, a detta di tutti, si sa non doveva far parte della serie regolare ma doveva essere una miniserie a se stante ma la pandemia probabilmente ha giocato brutti scherzi ai piani della Bonelli ammesso che abbiano dei piani in Bonelli e così questa miniserie fantastica che è stata il ciclo 666 si è infilata in una serie regolare prepotentemente andando poi a, di fatto, a non concludere nulla sui numeri successivi sui numeri dal 407 in poi se non una serie, appunto, di correzioni forzate che hanno fatto storcere il naso sia ai vecchi lettori che, vabbè, storcono il naso per qualunque cosa ma poi ci torniamo sui vecchi lettori ma anche ai nuovi lettori che hanno mangiato la foglia hanno mangiato la foglia hanno capito che questa era un'operazione raffazzonata di fatto andando a scomodare anche questa figura questa figura ormai quasi ultraterrena che è Tiziano Sclavi quantomeno il nome, il brand Tiziano Sclavi andando a scomodare questo grosso nome pesante che nel numero 400 aveva persino subito una decapitazione come a dire ok, ora, adesso facciamo quello che vogliamo invece no Tiziano Sclavone Tiziano Sclavione si è rimontato la testa e l'ha tagliata ad altre persone ritornando a dire la sua o così ci hanno fatto credere dicendo che comunque si doveva tornare al classico e quindi via tutto con un colpo di spugna scritto da un anonimo o meglio, scusate sì, scritto il soggetto da un anonimo e poi sceneggiato da autorevoli autori scusate il gioco di parole hanno portato con un colpo di spugna di 2-3 numeri a un ritorno al classico dove appunto Dylan Dogg non è più figlio di Block sti gran cazzi dove Dylan Dogg ha sempre avuto come assistente il graucio e non c'è mai stato Gnaghi non ha mai avuto un periodo come becchino al cimitero di Undead non è mai stato sposato con Rania anche perché Rania non è mai esistita Carpenter non è mai esistito Block non è mai andato in pensione Jenkins non è mai andato in pensione Lord Wells non è mai morto non lo sappiamo dato che si diceva che Tiziano Sclavi non amava Lord Wells quindi chi lo sa se è tornato o meno nel nuovo vecchio ciclo e presumibilmente anche Jenkins continua a stare a Scotland Yard anche se per ora non si è visto le copertine stesse dei Cestaro Brothers sanciscono un ritorno al classico in questo mese addirittura omaggiano un vecchio disegno di Stano che aveva fatto sui tarocchi quindi non è che hanno finito le idee non è una copia è una citazione poi so che per alcuni non si coglie la differenza o per alcuni si vuole cercare il brutto il complotto in qualsiasi cosa ma ci arriviamo anche questo parlando della storia e dopo la storia dell'altra volta che era classica su molti punti di vista che se non sbaglio era della Contu e mi era anche piaciuta molto nonostante io con la Contu la Contu scrittrice non abbia questo feeling questa visione delle cose delle cose dilaniate che va di pari passo lo avevo apprezzato molto l'avevo trovato molto calzante come primo numero di Dylan Dog ci ho sicuramente visto delle letture che non sono state proprie della volontà iniziale della sceneggiatrice ma che si prestavano bene a quello che c'è stato in quel frangente in quel mese ma in questo mese secondo me scoppia scoppia proprio il meglio di quello che può essere il ritorno al Dylan classico perché io forse ci voglio vedere delle intenzioni non proprie anche del curatore ma secondo me questo ritorno al classico vuole essere magari un ritorno al classico nella forma ma che nella sostanza ci dà tante novità ce le dà in modo un po' più silenzioso appunto come hanno detto alcuni numeri fa senza far rumore non con fragore ma con un lamento ci danno degli argomenti nuovi degli argomenti attuali ma tenendoli sul filo del rasoio ovvero cercando di non essere troppo espliciti cercando di non dare un'opinione ferrea su un dato argomento accontentando alcune persone ma scontentandone altre tacciando Dylan Dog di essere cambiato tacciando Dylan Dog di essere diventato un hipster un radical chic anche se lo è sempre stato ma fa niente e tenendo queste opinioni appunto molto vaghe molto velate queste opinioni questi punti di vista le tengono appunto opinabili e quindi tutti ci si possono rispecchiare perché in questo numero dicono un po' tutto ma dicono un po' niente non prendendo posizioni dando un colpo al cerchio e uno alla botte non tanto nella forma come hanno fatto finora ma nell'argomento di fatto accontentando tutti perché questo numero l'invasione silenziosa di sicuro accontenterà tutti anche se è un'operazione un po' pericolosa cominciamo con l'inizio c'è appunto una è stata presa in ostaggio una una stazione radiofonica e subito il mio pensiero va a quel fantastico film con protagonista Brandon Fraser che no non è The Whale e non è La Mumia ma è Hey Reds che vi consiglio caldamente magari vi metto qua il link in descrizione se c'è da qualche parte su qualche piattaforma streaming o alla peggio vi metto il link di Wikipedia così capite di cosa sto parlando vi consiglio di recuperare Hey Reds specialmente se siete dei metallari dei rocchettari se amate rock vi piacerà questo film comunque al di là di questa di questa cosa che io ho colto che poi va a virare verso altri argomenti si nota che c'è questa appunto questa stazione radiofonica che è stata presa in ostaggio e subito dico subito dalla seconda vignetta io ho avuto la percezione che si toccassero dei temi molto particolari ovvero il complottismo il fatto di dire la propria in modo anche violento in spazi che dovrebbero essere safe qua si parla di una radio di una stazione radiofonica la protagonista insieme a Dylan Dog che si chiama Sherry da a Wayne che è appunto il villain tra virgolette delle prime tavole quanto meno la possibilità di parlare liberamente e lui ne approfitta venendo armato alla stazione radio questo mi mi fa venire in mente per esempio quello che può succedere tutti i giorni su una piattaforma social su facebook adesso anche su tiktok anche instagram ne è vagamente intaccato ovvero di spazi dove tutti possono dire la propria e dove ci sono persone che cercano di imporre la propria visione con violenza e non accettano appunto la visione altrui però la situazione in questo numero si ribalta in fretta perché già dalle prime tavole dalle prime dieci tavole pare che Wayne fondamentalmente abbia ragione fondamentalmente Wayne ha ragione a essere complottista perché vede delle cose che gli altri non vedono le persone comuni le persone normali si mimetizzano e non riescono a capire che c'è qualcosa sotto che c'è qualcosa che ci sta rendendo tutti schiavi e questo secondo me è la prima delle scelte molto pericolose che hanno fatto in questo numero perché è vero questa cosa accontenta tutti ma può anche far passare Dylan far diventare Dylan Dog una bandiera una bandiera di quelle persone complottiste che vedono il complotto in ogni cosa quindi io temo fortemente di ritrovarmi sì Dylan di nuovo sulla cresta dell'onda ma magari come come vessillo come araldo in un corteo novax in un corteo contro il 5G in un corteo su qualunque strano complotto che può alimentare e la cosa assurda è che se qualche anno fa fino anche a prima del ritorno all'entropia questa cosa non sarebbe stata magari accettata dalla Bonelli sicuramente non sarebbe stata accettata dal curatore io credo che allo stato attuale se succedesse una roba del genere la Bonelli non direbbe nulla non prenderebbe le distanze perché perché tornerebbe comunque Dylan sulla cresta dell'onda e questa cosa mi spaventa parecchio ma torniamo un attimo sulla trama di questa storia e sulle spiegazioni anche scientifiche sul motivo per cui Wayne riesce a vedere cose che gli altri non vedono mi piace che hanno trovato un motivo scientifico ecco un plottisti la scienza questa sconosciuta un motivo scientifico per cui Wayne abbia questa sorta di problema che in un certo senso lo aiuta a vedere quello che non va nel mondo ovvero lui soffre di prosopagnosia che è un fenomeno che qua spiegano parzialmente spiegano parzialmente spiegato parzialmente da Block sul fatto che appunto una persona non riesca a tenere a mente tra molte virgolette i volti che vede non riesce a ricordarli non riesce a metterli assieme al punto che quando rivede una persona è come se la vedesse per la prima volta e questo lo porta virtualmente a essere perennemente circondato da sconosciuti quello che non dicono nel fumetto è che la persona che soffre di prosopagnosia vede fondamentalmente riesce magari a ricordarsi delle persone perché vede i volti come spezzati vede vede parti di un volto ma non riesce a mettere il quadro d'insieme quindi magari si può ricordare non lo so di un taglio nel sopracciglio si può ricordare di un po' di alopecia sulla barba si può ricordare che ne so di come è attaccato l'orecchio ma non riesce a avere il quadro generale del volto e è stata una scelta fantastica quella di Davide Furnò il disegnatore di questo numero che a pagina 32 ci mostra il volto stesso di Wayne spezzato in due dal canaletto che separa le due vignette è una scelta sicuramente voluta e mi è piaciuta davvero un sacco prendiamoci anche un attimino per parlare dei disegni io mi lamento sempre che la Bonelli non fa mai le scale di grigio questo disegno è tutto scusate questo fumetto è tutto disegnato in scale di grigio ed è spettacolare la griglia è assolutamente classica è una griglia 6 bonellianissima ma le scale di grigio lo rendono talmente moderno che è un piacere per gli occhi vederlo in questo modo altro che il ritorno al vecchio Dylan qua c'è proprio un Dylan nuovo un Dylan che respira aria nuova ma che non ce lo fa pesare troppo come il Dylan precedente questo è un Dylan nuovo e non e non vuole far rumore però ci dà tanta sostanza ed è questo che è importante parlando ancora dei disegni sono curioso e chiedo ufficialmente a Davide Furnò se per il volto di Sherry si è ispirato a due persone io ci ho trovato molto di Nicole Ronchi nel soprattutto nei primi piani nelle tavole frontali anche forse anche perché il personaggio è una speaker radiofonica però ci ho anche trovato in una tavola dove si vede di lato in penombra ci ho trovato anche un riferimento a Elisa Dusko che per chi non lo sapesse è l'attrice che ha interpretato Fate in Buffy l'ammazzavampiri e lo spin-off angel ovviamente quindi sono curioso di sapere se ho colto diciamo il riferimento al personaggio parlando invece tornando invece sulla sceneggiatura mi è piaciuto molto l'intreccio un intreccio molto moderno che ci getta subito nell'azione per poi con un flashback portarci a capire cosa è successo per arrivare a quell'azione tutto in 28 pagine spaccate esattamente un terzo del numero quindi tutto il primo atto è stato perfettamente reso con questo intreccio narrativo molto moderno molto recchioniana anche il ritmo della storia e io uso il termine recchioniano quando voglio dire una storia che scorre veloce come un telefilm che ha un ritmo da serie televisiva una cosa che non c'era per esempio nei vecchi numeri di Sclavia per me a volte non sempre ma a volte è un valore aggiunto in questo caso è un valore aggiunto vedere una storia così ritmata che ti fa palpitare e ti spiega tutto perfettamente nel primo atto per poi andare avanti con la storia si inizia appunto con la conclusione del primo atto a capire che quello che Wayne vede le persone che vede senza un volto i senza volto non sono altro che le persone comuni che le persone conformiste le persone dalle quali Dylan Dogg si è sempre un po' discostate o le persone dalle quali anche i lettori stessi di Dylan Dogg si sono sempre discostati e questo mi fa venire in mente un'altra canzone prima per esempio ho parlato di prosopagnossia e vi metto qua sempre in descrizione ascoltate la canzone prosopagnossia di Caparezza che chiaramente parla dell'argomento sempre in maniera metaforica qua però vi metto anche una canzone di Frankie iEnergy che è famosissima che è Quelli che ben pensano che in un certo senso parla dei senza volto che vede Wayne fondamentalmente quindi vi metto queste due canzoni mi sto facendo un po' una playlist avete notato adesso che non lo non lo fa più recchioni siete contenti che è tornato l'horror club non ci sono più le citazioni alla musica adesso ve la faccio ve le faccio io le citazioni alla musica comunque vediamo subito due esempi di Quelli che ben pensano vediamo subito due esempi di cosa sono i senza volto per Dylan perché in un negozio Sherry incontra una sua vecchia compagna di scuola una sua vecchia amica che è il classico esempio di conformismo ovvero lo capiamo anche dalla capigliatura molto anni 50 carrello della spesa con bimbo dentro al carrello un toddler un bambinetto così che non ha idea di quello che sta succedendo e vediamo subito proprio la differenza tra Sherry il cui sogno è sempre stato quello di fare la speaker radiofonica e il sogno di questa vecchia amica di infanzia che fondamentalmente ha sposato un ricco rampollo di una qualche azienda di sto cazzo si è sposata ha fatto un figlio ha rinunciato alla carriera perché il suo sogno era cacciare fuori un figlio dai propri lombi prima dei 30 anni classico esempio di conformismo e anche piccola critica a persone che inseguono a tutti i costi un certo certe tappe della vita che la società impone ma che non sono assolutamente obbligatorie per sentirsi una persona completa cosa che dice appunto questa ragazza qui adesso sono finalmente completa no no non lo sei ma te ne accorgerai troppo tardi cara mia subito dopo questo osceno teatrino su questa mamma pancina in televisione parla un classico politico di destra o conservatore dato che siamo a Londra che parla appunto di la famiglia tradizionale difendere i beni della famiglia il bene della famiglia tradizionale prima gli inglesi insomma c'è una strizzata d'occhio neanche troppo velata su quello che poteva essere un pagliaccio politico che ormai è andato in rovina ma che adesso purtroppo è stato soppiantato da persone ben più serie anche nelle intenzioni che fanno anche più paura che vogliono a tutti i costi mantenere questo status quo che di fatto non c'è e proteggere il conformismo da tutto ciò che è diverso anche se diverso non significa sbagliato ma lo significa per le persone che sono conformiste in questo caso le persone che sono senza volto il senza volto di questo numero ma perché ho detto appunto che questo numero è pericoloso perché e viene detto purtroppo solo in una tavola e neanche in modo troppo chiaro perché appunto si fanno delle citazioni che possono far pensare a chi lo legge che i senza volto siano sì i conformisti per carità ma che i conformisti siano quelli che seguono la massa anche quando la massa è corretta ne abbiamo avuto un esempio un paio d'anni fa c'erano i Novax ci sono tuttora i Novax che non capisco perché ci siano ma vabbè ci sono tuttora i Novax che sostengono di essere loro gli illuminati e che tutte le persone che si sono vaccinate sono dei conformisti lo stesso modo e qua ce n'è un esempio tra l'altro un esempio un po' strano un po' sbagliato sul 5G ci sono le persone che credono che un'antenna 5G possa nuocerci e di conseguenza credono che chi non fa nulla a riguardo sia un senza volto e che loro invece siano degli illuminati ed è sicuramente un gioco molto pericoloso quello di nominare il 6G come parte di questo complotto potrebbe appunto far credere a qualche complottista che Dylan Dogg è della loro parte e questa è una cosa appunto un po' pericolosa il punto fondamentale di questa storia viene detto semplicemente in una vignetta precisamente nella tavola 94 quindi nella pagina 94 nella vignetta numero 1 c'è il nostro caro amico Frederico Frederike che dice Wayne pensava che loro fossero mostri forse è così ma in fondo sono solo altri esseri umani che hanno ceduto al richiamo dell'antenna in questo edificio è come un incubatorio eccetera e poi si va a finire nella narrazione questo cosa significa che tutti siamo senza volto agli occhi di chi si crede un illuminato ed è per questo che questo numero in un certo senso è molto paraculo ma fa bene ad esserlo perché è un po' tornato al Dylan dei fasti e sono anche d'accordo che per prendere lettori debba un attimino lanciare una rete molto ampia quindi da questo punto di vista c'è un po' di paraculismo però bisogna sempre tenere presente questa cosa ovvero noi noi magari che noi non lo so noi nuovi fan di Dylan Dog ci riteniamo illuminati e consideriamo i vecchi lettori quelli dei primi cento li consideriamo i senza volto chi si vaccina si ritiene illuminato e considera chi non lo fa senza volto forse considera anche peggio chi segue una religione chi crede crede in un dio si crede illuminato crede che quella sia l'unica via e chiaramente crede che le persone che non credono nella loro religione siano senza volto da illuminare e così via mentre chi non crede chi è agnostico pensa che queste persone siano dei conformisti degli invasati e crede che la loro via agnostica sia quella illuminante quindi stiamo molto attenti me lo dico io a me stesso per primo perché so di avere spocchia so di essere uno snob di merda lo so ne sono consapevole stiamo molto attenti a non considerarci sempre degli illuminati e stiamo molto attenti a non considerare il prossimo che non condivide le nostre idee un senza volto senza prima farci delle domande quindi mi raccomando perché l'unica verità oggettiva è questa che chi non è un senza volto chi non è un conformista è qualcuno che si fa delle domande e quando scrivono qui delle domande con la propria testa mi raccomando non si intende non guardare il TG5 e andare su i canali telegram a cercare l'informazione alternativa perché questa non è la vostra testa è un'altra cosa bisogna un attimino ritornare al pensiero critico che purtroppo non insegnano nelle scuole chissà perché è complotto quindi mi raccomando l'unica cosa che vi posso dire è di prendere questo fantastico numero e trarne un insegnamento come spero di aver fatto io e di diffonderlo come spero di aver fatto io spero di aver portato il messaggio mi è piaciuto il doppio finale il doppio finale che cita il numero uno di Dilan Dog con la cassetta del clarinetto un po' un deus ex machina di Groucho che secondo me ci sta ci sta anche per il doppio finale perché nell'ultima pagina fondamentalmente questa questa antenna questa distruzione di questa antenna è servita a poco perché c'è il finale dolce amaro dove la nostra cara Sherry viene licenziata dalla stazione radiofonica e andrà a lavorare per il proprio padre di fatto accettando un lavoro conforme conformista e di fatto divenendo una senza volto quindi c'è un po' di malinconia nel finale di questo numero che è perfetta per Dilan Dog qualche tempo fa parlava Ricchioni parlava di fluidità di Dilan Dog che Dilan Dog non doveva più essere così ancorato alla propria alla propria struttura e qua questo numero lo esprime benissimo vediamo un Dilan Dog che tira pugni senza problemi lo dice lui stesso in questo numero sto tirando un po' troppi pugni non è da me ma chi se ne frega va bene così perché alla storia serve questo in questo numero Dilan Dog vede un fantasma vede il fantasma di Wayne non è tra i poteri di Dilan Dog ma chi se ne frega in questo numero funziona è questa la fluidità di Dilan Dog di cui Ricchioni stava parlando e credo che sia questa la via giusta anche a livello narrativo per portare un Dilan più più frizzante un Dilan che non è appunto troppo ancorato alle proprie alle proprie paure alle proprie alle proprie caratteristiche con questa strana con questa strana società questo strano complotto che vede senza volto a destra e a manca mi ha fatto anche venire in mente il numero sui vampiri i vampiri di Dilan Dog mi ha un po' ricordato anche quel numero anche se qua si prende una via decisamente diversa che parla specificatamente di questo argomento i vampiri magari era molto più vago però ecco più o meno l'argomento è quello quindi se vi è piaciuto Dilan Dog i vampiri che vi ricordo è tra i primi 100 questo numero vi piacerà sicuramente io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video è un video lunghissimo scusatemi mi ero promesso di parlarne poco ma non ce l'ho fatta fa niente mettetelo a più velocità se volete come sempre io con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video grazie a tutti